Ciao Acquario, bentornato. Oggi è giovedì, 17 ottobre 2024, e ho delle previsioni speciali solo per te. Sei pronto a scoprire cosa ti riservano le stelle? Oroscopo Acquario. Segno fortunato. Giovedì arcobaleno, arriva il sorriso. L'amicizia è il vostro pallino, ma oggi superate voi stessi, annoverando nel vostro giro anche la coppia celeste per eccellenza, il sole e la luna. Il risultato è una giornata brillante, piena di sorprese, incontri e opportunità, da cogliere al volo. Tutto funziona alla grande, ma non dura, se vi mancano la volontà e la costanza per conservarvi i benefit che vi siete aggiudicati. La coppia è aiutata dall'armonia che c'è nell'ambiente circostante in cui vive. Potrebbe essere anche l'opportunità di nuove amicizie e di nuovi incontri proprio nell'ambiente di lavoro o in cui si vive. I single incontreranno persone interessanti proprio nell'ambiente in cui vivono o lavorano, anche l'anima gemella. Ottima intesa con capricorno e ariete, solo attenti alla loro impulsività che potrebbe costarvi cara. Buoni propositi per i nati di giovedi che potranno contare su un giove particolarmente amico. Non affidate le vostre confidenze a persone sconosciute o di cui sapete poco o niente. Non mettetevi nelle condizioni di farvi criticare. Assumete un atteggiamento rispettoso degli altri ma che esige rispetto per la vostra privacy. Non agite distinto. Non è il momento di essere precipitosi. È possibile che oggi Venere nasconda il suo volto, vi sentirete vuote e fredde e farete fatica a trovare il giusto equilibrio nei sentimenti. Non fate cose di cui potreste pentirvi. Le circostanze si muoveranno in suo favore. Notizie da lontano. Accetta gli inviti che ti faranno. Con Venere e Luna potrai fare affidamento in fatto di soldi e ancora meglio in amore. Dipende da te. Un'amica ha bisogno di voi. Date le consigli ma senza invadere troppo la sua privacy. Siate più selettivi nella scelta delle amicizie. Non tutte sono schiette e leali. Qualcuno vi osserva interessato al vostro mondo, tuttavia la situazione potrebbe risultare complicata se non date un piccolo aiutino a farsi avanti e presente. Oggi Giove promette una giornata luminosa anche se dovrete fare qualche piccola rinuncia in vista di un bene più grande. L'amore, per i nati di Luendi e Giovedi, è in pieno risveglio e potrebbe regalare loro qualche soddisfazione. Una notizia arrivata da molto lontano potrebbe darvi la giusta spinta per riprendere le redini di una situazione accantonata da tempo. Procedete spediti verso i vostri obiettivi, senza curarvi di alcuni malumori che ancora vi orbitano attorno. Dovete reggere a vari pianeti ostili, ma siete sostenuti da un'alleanza solidissima, quella di Plutone nel segno amico del Capricorno. In questa giornata Mercurio, ospitato nel segno nemico, amatissimo dello Scorpione, vi rema contro, specie se appartenete alla prima decade, seminando ostacoli in campo familiare e nel settore dei rapporti quotidiani in genere. La vostra qualità più vincente, la diplomazia, vi sostiene alla grande, consentendovi, se siete nati dal 9 al 16 di febbraio, di voltare le situazioni difficili a vostro vantaggio. Nettuno in armonia col vostro segno dagli amici pesci, ristabilisce l'equilibrio psicofisico, ma forse siete un po' affaticati dagli impegni dell'ultimo periodo e avete bisogno di ricaricarvi l'ideale per voi sarebbe una visita in una beauty farm. Luna dinamica, sincera, impulsiva, se qualcosa da chiarire c'è non vi perdete in preamboli girandoci attorno, preferite farla fuori subito dicendo pane al pane e vino al vino. Probabilmente l'interlocutore si offenderà, la qualcosa non vi turberà minimamente, quando gli sarà passata ragionandoci su e realizzerà che avete tutte le ragioni tornerà amicone come se nulla fesse. Amore ed eros. Sempre importante il dialogo in coppia, a patto che non sia una sequella di lagni e rimostranze. Anche l'ambiente esercita la sua influenza, se vi snerva o vi irrita rischiati di dire cose che non pensate ma feriscono l'altro in profondità. Per fare pace ripensate agli ideali e alle belle esperienze condivise. Un ineffabile Nettuno in pesci, in aspetto mediamente benefico questa giornata, vi sintonizza proprio come vorreste con il partner. Il pianeta blu, con la collaborazione del pianeta dell'Eros, Plutone, vivificherà poi l'intesa di coppia nel segreto dell'alcova. I più favoriti? Gli acquario di febbraio. Lavoro e denaro? Tipica giornataccia di metà settimana, con un bilancio negativo, troppo poco il lavoro svolto alle spalle e ancora troppo quello che manca per arrivare al weekend. Per tutti tanto lavoro sul tavolo, attivate la creatività.Prudenza al volante, non siete voi che volete forzare il contachilometri, è la vostra auto che in modo indipendente si mette a correre più forte. Ma non raccontatela alla polizia stradale decisa ad appiopparvi una bella multa, non vi crederebbe. La mediazione, che è una delle qualità per cui eccellete, vi sarà di grande aiuto in campo professionale in una controversia tra colleghi al lavoro. Sarà agevolata dal transito di un benefico Saturno. Benessere. Il ricordo di una vacanza settembrina particolarmente rilassante o dell'ultimo weekend trascorso alle terme ve li portate ancora dietro, nonostante siano trascorsi almeno un paio di giorni. Purtroppo, però, i malanni cronici non sono rimasti sulla nave da crociera o in agriturismo, vi seguono anche oggi, ma mantenuti sotto controllo non danno segnali, potete scordarvi della loro esistenza. Denaro. Attenti a non spendere troppo oggi negli acquisti un po' frivoli in cui indulgette a volte. Urano e Mercurio vi potrebbero far allargare i cordoni della borsa e non farvi soddisfatti in seguito. Per lei, rapporto complice e disteso con il partner e i figli, guidati in tono amichevole e i ragazzi accettano anche le regole. Per lui, viaggi d'affari, di lavoro o per cultura, senza movimento, in mancanza di auto, moto o treno vi sentite subito imprigionati. E libertà è la parola chiave del vostro segno. Colore delle emozioni, indaco. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 10, finanze, 7, benessere, 10. Grazie per aver guardato il video. Buona giornata. Grazie per aver guardato il video.